Bella raga e bevono in questo nuovo video. In questo video vi farò vedere dove si trovano i palloncini di Pennywikes. Ci troviamo a Palmetto. Il secondo palloncino si trova sempre a Palmetto Paratisiaco. A Corso Commercio si trovano altri due palloncini. E il secondo palloncino di Corso Commercio si trova qui. Il quinto palloncino si trova a Borgo Bislacco in questo punto della mappa. L'altro palloncino si trova a Parco Pacifico in questo punto della mappa. L'altro palloncino a Parco Pacifico si trova vicino all'ex Casa Moderna. Un altro palloncino si trova a nord di Borgo Allegro in questo punto della mappa. Beh ragazzi, io vi ringrazio di aver visto questo video. Mi raccomando un bel pollicino in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!